Ciao amici di Sergadget, buona giornata e benvenuti. Quello che vedete qui nelle mie mani è uno degli oggetti più attesi di questo periodo, uno degli oggetti per cui pare siano tornati in alcune zone del mondo le code fuori dagli Apple Store. Stiamo parlando degli Apple AirPods, una scatolina con un pulsantino per verificare lo stato della carica. Sulla parte inferiore della confezione è anche posizionato alla porta Lightning Port, ma la cosa curiosa che capita è quella che avviene quando accendete il vostro oggetto. Allora intanto sblocchiamo iPhone e mettiamolo qui e guardate cosa succede quando io apro la porta. Vedete che immediatamente appare, allora adesso si è chiusa quindi rifacciamo da capo, vedete immediatamente appare questo messaggio che chiede se vogliamo collegare gli AirPods. Quando viene chiesto di collegarli, viene chiesto di tenere premuto il tasto sulla parte posteriore, questo essenzialmente è perché era già stato combinato il mio modello di AirPods, scusate che apro, ecco bisogna tenere la scatolina aperta perché essenzialmente era già stato abbinato in precedenza, ho sbloccato l'abbinamento proprio in questi minuti e a quel punto gli AirPods sono collegati. Quando io riapro la confezione e estrapolo uno degli auricolari arriva immediatamente l'informazione sullo stato di carica. Adesso che è sparito perché ho chiuso essenzialmente la porticina, quindi avete visto ho tolto, appoggiamo il telefono che se no faccio un manicomio, ho tolto essenzialmente l'auricolare, vedete mi preparo per l'utilizzo, arriva l'informazione che gli auricolari sono al 100% e la scatoletta è al 98%. Per governare gli AirPods in tutte le sue funzionalità basta andare in quest'area, l'area cioè essenzialmente dove c'è la connessione del Bluetooth e potete decidere cosa succede quando toccate i vostri iPods, potete decidere di farli rilevare automaticamente e anche il microfono di scegliere quale dei due utilizzare, se rilevare automaticamente oppure no. C'è una caratteristica tra l'altro da sottolineare relativa a questi AirPods, ovvero il fatto che quando li collegate ad un prodotto, come in questo caso collegati ad iPhone, in realtà avete connesso tutti gli apparati collegati ad iCloud di vostro possesso, quindi utilizzando essenzialmente gli AirPods con il vostro tablet o anche con Apple Watch funzioneranno praticamente straight away, come si dice in bergamasco. Insomma facili da utilizzare, dunque facili da abbinare. Ho utilizzato per una giornata intera di lavoro qualche settimana, qualche giorno fa gli AirPods fino alle sette e mezza di sera, quindi direi una carica intorno alle cinque ore, cinque ore e mezzo. Potete caricare la custodia anche indipendentemente dagli auricolari, quando reinserite gli auricolari la carica della custodia viene riversata su quella degli auricolari. Potete controllare lo stato di carica con questa lucina che vedete sulla parte centrale della custodia. Insomma 169 euro, o 179 non me lo ricordo mai, insomma un prezzo inferiore di 200 euro, una buona ergonomia. Ecco io non sono d'accordo su coloro che dicono che cadono in continuazione e sono anche dell'idea che non tutti i prodotti vadano bene per fare tutte le cose, cioè traduco delle cuffie che si mettono sopra la testa, di quelle grosse insomma con l'arco sopra la testa, non vanno bene per correre. Ecco la stessa cosa vale per AirPods che secondo me in alcune condizioni forse tendono a essere un po' scivolosi, ma io non lo trovo un dettaglio particolarmente disturbante. Insomma ogni oggetto è adatto a fare determinate cose, non si può pretendere che sia adatti a tutto quello che noi vorremmo. Per me l'audio è buono, con una buona definizione dei bassi, è leggermente inferiore alla definizione del suono delle Icon X di Samsung, ma comunque buono in senso generale. Eccoli dunque, finalmente in vendita anche in Italia, Apple iPods.